In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. Tre serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Densa Reggio Emilia. Il telefono 0522 90 20 54 oppure 90 20 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Cari amici sono pronto per andare in spiaggia. Guardate un po' una tropical style quest'oggi qui a Vada Liscio e non vedo l'ora di passare una bella settimana insieme a voi dal 25 giugno al 2 di luglio. Voi chiederete ma perché si è tenuto gli occhiai da sole che è in televisione perché c'è un ospite che ha anche gli occhiai da sole. Guardate qui al mio fianco chi c'è? C'è Maio Vasco Rossi. Vasco Maio Rossi. Ciao a tutti. Ho voluto fare la stessa cosa. Ciao carano. Dopo mi fai ascoltare il tuo nuovo brano. L'inedito. L'inedito. Vabbè dai, non voglio essere maleducato. I miei si smontano. Vedi? C'hai il duplefasse. C'ho il duplefasse. C'ho il duplefasse. Va bene. Abbiamo visto le immagini di Trinità. Una bellissima canzone. Spegni la luce. E ho rivisto volentieri anche degli amici che ballavano in pista. C'era anche l'amico Marino con Luisa del Circolo Bismantova di Reggio Emilia. Ciao Marino, ciao Luisa. Dai, nel pomeriggio ci sentiamo così ci aggiorniamo un po' sulla situazione, sul da farsi se vogliamo ripartire. Bisogna ripartire. Bisogna ripartire. Oh bene. Andiamo in musica, cosa dite? Sì, intanto facciamo la musica. Andiamo facciamo la musica. 393-8489-561 per mettervi in contatto con il sottoscritto. Ricordiamo sempre in apertura che chi non ci vede sul 78 ci può vedere sul 77, però a questo punto quando non ci vedrete più sul 78 andate sul 77, ma dal primo di luglio ricordatevi di passare sull'86. E poi ci fermiamo lì, ok? Basta. Stiamo al pit stop. Siamo pronti ragazzi, andiamo con una bella canzone di Andrea Bonifazi, Oasi, e la voglio dedicare alla mia amica Fortuna delle Marche e anche al mio amico Franco Bevilacqua. Eccola qua. Eccoci qua di nuovo con Oasi, tra l'altro io l'ho dedicata all'amica Fortuna e non avevo allo stesso tempo visto il messaggio che le aveva mandato in precedenza. Ciao Nicola, dopo una settimana di assenza oggi ti vedo, mi sei mancato, chissà che cosa mi sono persa, se vuoi mi metti bella signora, buona musica e buona giornata. Io ti avevo messo questa di Andrea Bonifazi, però non è detto che andare alla fine della puntata non riesca ad accontentarti anche con bella signora, ma come sei affascinante oggi, grazie per la dedica. Ma guarda che lavoro. Grazie, grazie. Allora abbiamo iniziato col sorriso, perché è il nostro modo di fare, con l'allegria. Ce l'abbiamo nel DNA noi. Esatto, siamo una trasmissione di intrattenimento, però è giusto ricordare anche delle persone che non ci sono più, perché mi ha telefonato l'amico Sauro da Reggio Emilia che voleva ricordare le vittime del terremoto del 2012, del terremoto in Emilia, proprio oggi, il 29 29 di maggio. Allora dedichiamo a tutte le vittime che ci sono state proprio quel giorno lì questa bella canzone di Omar Lambertini, Mariana Lanteri, Roberto Polisano e Rossella Ferrari. Arriva la forzia, la forza siamo noi. Eccola qua. Eccoci qua. Siamo rientrate. Come dimenticare queste brutte immagini? Tra l'altro io pochi giorni dopo, un mesetto dopo, andai proprio in quella zona, San Possidonio per fare un'ospitata con l'amico Gabriele Ziglioli e vedi tutto quel disastro. E la cosa ancora più triste è che tornando recentemente ci sono ancora delle situazioni bloccate in questo modo. Io dovrò tornarci comunque in luglio perché sarò ospite dell'amico Roberto Morselli al Circo La Bastia, Bastia Estate a San Possidonio e ogni tanto quando si passa da quelle parti vediamo sempre un po' di tutto bloccato. È vero, è vero. Un po' il disastro fermo con le quattro frecce, praticamente che ancora ci sono tante situazioni da sistemare. Ne approfitto perché il Circo La Bastia con l'amico Roberto Morselli riparte, che giorno è il 20, è la domenica, sai che non mi ricordo, il 20 di giugno con tanta bella musica e lo spuntino della nostra cara Deborah Malavasi. Mi raccomando partecipate numerosi, il 20 di giugno, Bastia, San Possidonio, Modena. Andiamo avanti con le canzoni e un amico Franco di Budrio ha telefonato e ieri aveva richiesto l'universo per me, ieri non l'avevamo fatto in tempo, lo accontentiamo adesso, è bisogno dai, eccolo qua. Un minaccio per me. Per lui. Per te. Per lui. Per tutti. Fuochi d'artificio, fuochi d'artificio perché il nostro mondo sta piano piano ripartendo e speriamo che non ce lo riblocchino però. Ma no, dai. Speriamo di no. Adesso con quei vaccini lì. Esatto, tutto dipende da noi se ci comportiamo bene. Allora la nostra Dora manda a me il messaggino e dice Ciao Nicola, buon sabato e felice weekend. Mi metteresti la mia adorata canzone Fiume di Scandiuzzi perché di Zamboni penso che tu non ce l'abbia, ma tanto li amo entrambi. Certo, ti metto l'originale, dai, così ti accontento anche perché di Zamboni dobbiamo accontentare l'amica Fortuna con Bella Signora. Buongiorno Nicola, è troppo tardi per sentire, va pensiero di Semino Rossi per tutti noi, Luciana. Non so se ce l'ho ma non è tardi, mancano ancora 40 minuti, abbiamo appena iniziato. Vedi, vedi. Ci vuoi già spegnere? No, ti accontentiamo, cerchiamo di trovare il pezzo più che altro. Adesso Vasco Maiorossi voglio giocare con te con un quiz. Dimmi, dimmi. Un quiz. Devi trovare la differenza tra il prima e il dopo. Dimmi, dimmi tutto. Vediamo la foto che io ti metto, guarda, vediamo se riconosci queste persone in questa fotografia. Guardiamo un po'. Allora, il prima e il dopo. Eh che lavoro. Eh? Tutta la famiglia al completo, guarda. È la stessa foto, ragazzi, 30 anni fa, la parte destra, 30 anni fa, io, mia mamma e mio papà al monastero della Madonna Nera di Tindari e nel 2017 ci siamo ritornati e abbiamo fatto la stessa foto. Però vedi che già da allora... Ma quello lì in mezzo eri tu? Eh sì, sono io. Più piccolo. Più piccolo. Dopo sono cresciuto un po' di più. A freddo di mangiare il gelato, vedi che ero già lì a mangiare il gelato. Saluto mamma e papà, ci vediamo in questo weekend. Poi andiamo avanti con i messaggi. Ah, tra l'altro c'era anche collegata Conny da Toronto. Cara Conny, guarda tua cugina. Eccola qua com'era una volta con i ricciolini e adesso un po' più liscia. Eccola qua. Buongiorno carissimi amici Nicola e Vasco Rossi. Grazie. Magari, magari. Beh, vinciò, va dai. Vasco Maglio Rossi. Vi auguriamo uno splendido fine settimana. Vi abbracciamo forte forte Robby e Riccardo. Ciao Robby. Magari Vasco è a zocca e ci sta guardando sul canale 77 e si vede lì, alto posto, povere... Chissà che cosa dice. Chi è quel truffatore lì? Esatto, esatto. Dai, andiamo in musica. Accontentiamo la cara amica Dora con fiume. Fiume, scorri fiume. Vai, vai. Lei lo vuole dedicare al suo fiume, al fiume Enza, quello che scuola... Sì, sì, sì. Giù di lì. Giù di lì. Giù di lì. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, mare mare, stella del nord, un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In Viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicottera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona. Trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. Tre serati in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza a Reggio Emilia. Il telefono 0522 90 20 54 oppure 90 20 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Tadini e Verza, storico negozio di alta moda maschile a Modena. Ti offre da sempre qualità, professionalità ed eleganza. Tadini e Verza, dal 1880, il piacere di vestire italiano. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Dominzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Un grazie di cuore agli amici e collaboratori di ieri, oggi e domani. 40 anni e sembra ieri. www.novalis.it Fiume, scorri fiume. Andiamo nel poverito. Andiamo alla lenza oggi a prendere il sole, dai. Ma il sole c'è o non c'è? Siamo chiusi nello studio e noi non lo vediamo. Ma fuori c'è, fuori c'è. Comunque, comunque, continua il nostro quiz. Sì? Allora, prima non hai indovinato. Vediamo se indovini adesso di che cosa si tratta. Fammi vedere, fammi vedere. Non c'è da trovare la differenza. Mi devi solo dire chi è, chi è, te e chi. Chi è, chi è. Chi è quello lì? Ma no. Ma chi è quello lì? Quello lì lo conosco da quando era piccolo così. Esatto, è il piccolo Vasco Maiorossa. Ma sei di bruttino da piccolino? Aspetta, guarda. Ma no, dai. Non che sei migliorato, eh. Anzi, no. Eri più bellino da piccolino. Potevi rimanere così. A parte che non è che sei cresciuto tanto, eh. Sì, sì. Vai avanti con le canzoni, vai, vai. Lo sto massacrando. Allora, ricordiamo un appuntamento. Il nostro appuntamento di martedì, primo di giugno. Giugno. Ok, ragazzi. Un bel giro pizza in compagnia. Tech, dove? All'azienda agrituristica, dell'agriturismo, Corte dei Landi, a Cadè, Via Castello, 35. Ok? Musica d'ascolto dalle ore 19 con Nicola Marchese e Maio. Giropizza Volontà dalle ore 20. Una birra artigianale a persona, oppure una bottiglia di vino. Ogni due persone, dolce, acqua e caffè. 25 euro compreso lo spettacolo, va bene? Certo. Allora, poi sai cosa ti dico, caro Vasco? Dillo a Maio, visto che saremo io, io e lui e basta. Dillo, dillo. Dopo, a fine pizzata, andiamo in giro a fare i bagordi, capito? Andiamo a trovare... Eh no, non si può. Eh no. Non si può perché c'è ancora il... Cerca il coprifuoco, il 7 poi diventa alle 24 e poi... Esatto. Se arriviamo in zona bianca, il coprifuoco non c'è più. E c'è una bella notizia, perché aprono le discoteche. Però le discoteche aprono, ma non si potrà ballare. Allora si deveva che le aprite a fare, io dico. È come se avessero aperto dal 26 di aprile i ristoranti, ma non potete andare a mangiare. Passate lì davanti, lì guardate e tirate dritto. E non usate la pizza, basta. Ok, è come aprire la piscina, ma non potete fare il bagno. C'è sempre quel ma lì che... Secondo te. Apriamo gli stabilimenti balneari, niente ombrellone, niente sdraio e non vi potete bagnare. Certo. Più o meno il ragionamento è quello. Pensa, e pensa caro Vasco Maio Rossi, che hanno studiato. E beh, bisogna studiare per fare quelle ore lì. Eh sì, perché se non avessero studiato uno dice, vabbè, l'ignoranza. Invece no, hanno studiato per arrivare a queste... Per fortuna che io mi sono fermato prima. Sì, sì, sei proprio ignorante. Sì, assi. Andiamo in musica e accontentiamo l'amico Cobra di Decima con la barista sexy. Sexy. Caro Cobra, e se vieni il primo di giugno da noi... Eccola. Ma c'è la barista sexy. Vi cercherai la babbolina. Sono tutti uomini quelli che servono. Niente, è da poco. Comunque tu vieni lo stesso ad ascoltarci. Ecco. Uè, barista un caffè? No, che caffè? Dobbiamo pranzare ancora? Aspetta un attimo. Andiamo dopo. Grazie della dedica. Sei bravissimo. Un saluto a Monica e a Maio. Questo è un amico Franco Bevilacqua. Dice, sei un grande cantante, un presentatore. Dove c'è la tristezza, tu porti l'allegria. Bravo. Certo. Fantastico. Bene, bene, bene. Andiamo avanti. Perché? Perché la gamba la tira al pe... Questo è un detto che di solito... Comunque voglio salutare l'amico Mimmo Mirabelli insieme nel 2012. Ma sai che non passate tanti anni? Ma mamma. Mamma mia, ragazza, erano i primi... Quasi dieci anni. Erano i primi giorni, secondo me era... Guarda, il 4 maggio del 2012. Eh, vedi? Era proprio lì. Segna, segna. Andai in Piamoante. Poi dove siamo arrivati all'ultima tappa, come potevi vedere, era molto intrigante. Era in Val d'Aosta. In Val d'Aosta. Hai fatto anche te il Giro d'Italia con la bicicletta. Esatto, esatto. No, ero con la macchina e comunque è stata una bella esperienza perché in... 20... 30 ore siamo stati fuori praticamente. Abbiamo fatto questo videoclip bellissimo e abbiamo conosciuto tanta gente. Poi non dimentichiamo che Mimmo Mirabelli l'abbiamo conosciuto da Barbara D'Urso. Certo. Con il ballo della papra, il tuo amico Maio era vestito da paperella e abbiamo conosciuto Mimmo Mirabelli lì con la danza della panza. Ma guarda. Facciamo delle puntate con i tormentoni dell'estate. Noi c'eravamo finiti in mezzo con questo bellissimo brano, questa tarantella del mitico maestro Tony Verga, il ballo della papra. Poi dopo hanno cominciato a parlare di morte e basta. E lo spettacolo è andato... Col cuore, col cuore, col cuore. Col cuore, col cuore e col cuore ci ha mandato a quel paese. Andiamo, andiamo ad accontentare l'amica Luciana di Ravenna con Ma che voce! Però cantare da Semino Rossi. Ah, Semerino Rossi. Semino. E lo dedichiamo anche alla nostra cara amica Barbara che a lei piace veramente tanto. Ci vediamo martedì, cara Barbara. Ciao, 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 ciao. Standing Ovation, c'era una tua canzone che si chiamava Standing Ovation. Sì, sì, sì. Allora salutiamo Daniele di Vergato e la mamma Anna che hanno richiesto Se non ci fossi tu vedo di fare tutto il possibile. Io ti ho detto di sì, caro Daniele, ma ho abbastanza richiesta e vedo di fare il possibile. Non garantisco per oggi. Intanto, cosa mi fai dire? Perché? Perché era per Luciana di Cesena, non Luciana di Ravenna la canzone. Ah, di Cesena. Devi stare attento, devi stare. Allora, dove sono rimasto? Qua, cosa è rimasto? A Luca di Bologna che aveva richiesto Mariana Lanteri con la penna nera. Sì. La penna nera. Ti ricordi quel tuo amico di Parma che ti aveva fatto la richiesta? Sì, sì. Lo posso dire. Come te l'aveva chiesta? Ma la Luca fa la penna nera. Ecco, la facciamo. Eccola qua che arriva. E voilà, con questa abbiamo ricordato anche gli alpini. Dove sei andato a finire? Dove sei andato? Ah, al bar. Al bar Nima, ma perché c'è anche il travel set, ragazzi. Il set da viaggio. Con i prodotti Ringana. Andate in vacanza, venite in vacanza con noi, affrettatevi perché ci sono le ultime camere disponibili e al di là, se scegliete di venire in vacanza con noi, andate in vacanza. E allora vi portate un pezzo di noi con i prodotti Ringana by Nima Nature. Ne approfitto per ricordarvi la nostra pagina Facebook, Nima Nature, e con sostenibilità uno stile di vita. Cliccando il tasto ordina, ora sarete andati al nostro sito di commerce nicolamarchese.ringana.com e cliccando login inserite i vostri dati, poi potete navigare tranquillamente, fare i vostri ordini, altrimenti mi chiamate al numero 393 1912 091 e io sono molto contento di darvi una mano. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Sto cercando il login. Il login, non il login. Il login. Comunque ci sono i vari set travel, ragazzi, con tutti i prodottini, ce lo spiegava la nostra Cocco nelle passate puntate, con i flacconcini da 50 ml, da 20 ml, da 15 ml, da 10 ml, basta, basta così, vi portate tutti i vari prodotti, è anche un modo per testarli, per provarli, per poi acquistare i prodotti più grandi. Esatto, come dice, maionese sono tutti testati. Tutti testati, hai ragione. E ricordiamo anche le caps Moodoo, quelle per la pacatezza, vi sentite ansiosi, siete un po' agitati, volete darvi una calmata, tac, tre di queste caps al giorno vi tranquillizzano e poi sono comunque prodotti naturali, vedete, ha già fatto effetto. E inoltre, che tante amiche le hanno utilizzate e sono molto contento di questo, le caps move per le articolazioni. Esatto. Perché ogni tanto le articolazioni vanno lubrificate, un mal di ginocchio, ma le sto prendendo anch'io, perché anche se ho 40 anni le ginocchia ogni tanto... Screcchio là no. Un colpo è screcchio là no, hai ragione. Andiamo ad accontentare l'amica Fortuna, lei delle caps non ne ha bisogno, ma chi lo sa, Fortuna, per qualsiasi cosa fate sentire che c'è la capsula giusta. Hai problemi di digestione? C'è digest. Digest. Vuoi infoltire, non infoltire, vuoi curare di più i capelli? Guarda, guarda che lavoro. C'è beauty hair, ma per ogni problemino c'è una capsula, va bene? Certo. Guardate come è saltato fuori lui. Io sono incapsulato dal giorno all'anno... Bella signora, tutta per te, Fortuna. Bella signora, andiamo avanti, andiamo avanti perché c'è un messaggio dell'amico e del fratellone, Nicola volevo salutare te e Maio Vasco Rossi e vorrei ascoltare musica e parole per dedicarla a mia nipote Giorgia, che poi le mia, comunque, è nostra, almeno scrivi nostra, Luca, quando ti vedo ti tiro i capelli, alla quale voglio un mondo di bene. Eccola qua che arriva, musica e parole, tutta per te cara Giorgia e grazie caro fratellone che mi segui tutti i giorni. Siamo musica e parole, questa è una bellissima canzone cantata da me e dalla nostra Cocò. Caro Nicola e company, Luciana di Ravenna vi saluta e vi augura buon sabato e domenica. Associami ad una canzone che vuoi tu e io ti associo a questa canzone. Vedi che esisteva anche Luciana di Ravenna, non mi sono inventato, però quella di prima era Luciana di Cesena. Siamo arrivati all'ultimo brano, non posso accontentare Daniele e Anna di Vergato, lunedì sicuramente con Se non ci fossi tu, ma accontento Daniela di Cesena che aveva richiesto Davide Montali con Amor Mio. Ciao a tutti, stessa ora, stesso canale, stessa spiaggia, stesso mare. Bye bye, a lunedì.